La rimessa è per noi, Munari deve trovare un compagno, siamo al limite dell'aria, dobbiamo muoverci prima di batterla, perché è quasi finita la partita, Parisi entra in mezzo al campo, viene messo a terra, resiste una carica, l'appoggia per Zanandrea, da quest'ultimo per Masetti, ancora Zanandrea deve metterla in mezzo, invece l'appoggia per Zunno, largo a destra, ecco il cross, secondo parola, è gol, è gol, pazzesco, è gol di play, di mora, è gol di mora. Al minuto 98, è gol di mora, incredibile, il bellissimo cross, e andiamo a vincere questa partita, andiamo a vincerla, tutti sotto la curva, tutti sotto la curva, andiamo a vincere una partita che non meritiamo, ma non ce ne frega niente, bellissima, veramente il cross di Zunno, sul secondo palo mora non può sbagliare, e non sbaglia, e la vinciamo questa partita, bravissimo Zunno, avevamo detto che non aveva fatto una cosa giusta, ha fatto un cross eccezionale, e vinciamo sta partita.